Benvenuti a tutti! Prima di iniziare, vi invitiamo a premere il tasto iscriviti e a lasciare un mi piace per rimanere sempre aggiornati sulle nostre prossime notizie. Oggi parleremo della vita e della carriera di un artista che ha toccato i cuori di molti, il grande cantante neomelodico napoletano Nino D'Angelo. La sua vita non è stata sempre facile, segnata da un'infanzia difficile e da alcuni episodi drammatici, come la tentata rapina nella sua abitazione nel 1986, episodio che lo ha segnato profondamente. Nonostante queste avversità, Nino D'Angelo è rimasto un artista molto amato dal suo pubblico, tanto da continuare a tenere regolarmente concerti. In queste settimane, il cantautore è impegnato nel suo tour Il Poeta che non sa parlare. A Latina, era previsto un doppio appuntamento dopo il sold-out del 7 dicembre. Ma ecco la notizia che tutti aspettavano. A poche ore dall'inizio dello spettacolo previsto per l'8 dicembre, il giorno dell'Immacolata, Nino D'Angelo si è ritirato a causa di problemi di salute non meglio precisati. Gli spettatori paganti sono stati subito rassicurati. I biglietti rimarranno validi per la prossima data, fissata per il 23 dicembre 2023 alle ore 21. Per Nino D'Angelo si tratta di un momento assolutamente complesso, dato che non è mai accaduto con grande frequenza che un suo concerto venisse annullato. La grande apprensione per la salute di Nino D'Angelo è stata poi alleviata da un post su Instagram. L'artista ha rassicurato i suoi fan, scrivendo che si trattava solo di una brutta influenza stagionale. Nino ha scritto su Instagram, guardando il Napoli con la febbre e l'albero di Natale. Nelle storie di Instagram anche le immagini della data del 7 settembre a Latina, andata in scena come previsto. Un grande successo. Con questa notizia i fan possono tirare un sospiro di sollievo, sapendo che il loro amato cantante sta bene. Concludiamo questa narrazione chiedendovi Cosa ne pensate di questa notizia? Scrivete un commento qui sotto per condividere i vostri pensieri. E non dimenticate di iscrivervi al canale e attivare le notifiche. Grazie per essere stati con noi. A presto!